Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angelica e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per giocare insieme a voi a Youtubers Life, come vedete dal titolo Oggi inizieremo una nuova serie, sarà il primo episodio di Youtubers Life Spero che questa nuova serie vi piaccia E ora non ho ancora provato, non ho ancora visto se il gioco funziona, però ho finito di installarlo E potrei dire di iniziare a giocare Eccoci qui, non credo che terrò il telefono Perché dobbiamo consentire tutto Credo che la videocamera la tolgo perché non so come si gioca Non so ancora come si gioca Questo gameplay l'ho visto da FabiJ Lo sapete, lo youtuber più famoso d'Italia, lo sapete Ho capito Allora Youtubers Life Non l'ho mai provato, quindi Se vedete che faccio schifo è perché non l'ho mai provato Vediamo se carica Oggi ragazzi, i blog ci vediamo con l'ho finito di caricare Ragazzi, sta caricando Mi sono appena accorta adesso Che sta caricando Allora Se consentiamo Dai Vediamo Forse non si caricava per questo che devo accedere a Google Play Cioè, è caricato proprio questo Ok Sono nata femmina Credo che sono Si, sono nata femmina Facciamo Nuova Partita Ok ragazzi Sono ritornata Ha caricato il gioco E ora Mi sto chiamando mia sorella Scusate, però mi sto chiamando mia sorella Mi sto chiamando E allora Ho premuto Nuova partita Perché non ci ho mai giocato Ora Facciamo femmina Perché non sono femmina Perfetto Allora I capelli Li metterei Credo Così Con la coda Però non biondi Marroni Perché ho i capelli marroni Perfetto Ora Gli occhi Ce li ho Marroni Li metterei così C Marroni Perfetto Poi la bocca No La tengo così Poi barba No Perché sono femmina Poi cappello Direi Vestiti No Poi Vestiti Assolutamente Cambio Metterei Una Maglietta Metterei Una maglietta Abbastanza carina Allora Metterei Questa Però Forse voglio questa Più carina Sì Sì No Non lo so Lascerai questa Da poco Ho finito di fare Tutto l'outfit Dicetemi Cioè Ditemi Giù nei commenti Se vi piace L'outfit Poi Poi Qui c'ho Ok Perfetto Poi le scarpe Così No Io le vorrei rosa Però non ci sono Quindi Le lascerei Così Così Mettiamo le rosse Poi gli occhiali Io ho gli occhiali Ce li ho Così Però Li voglio Li tengo Oppure No Così Ok Ho finito Ora Cosa devo fare Non torno indietro Credo No Così Ricco Socievole Cosa è successo Cosa sta succedendo Scusate L'avevo alzato Il volume Oddio Cosa sta succedendo Aspettate No Cosa ho premuto È la pubblicità Credo Cosa ho premuto No Devo rifare No Non ci credo Devo fare tutto Da capo No Non ci credo Ragazzi Devo rifare tutto Da capo E mi sono sbagliato È la prima volta Che mi succede Tanto è la prima volta Che ci gioco Ora rifaccio Rifaccio Tutto Quello che abbiamo fatto Prima Ci vediamo Dopo Eccomi qua ragazzi Ho rifatto tutto Velocemente Ora Dobbiamo fare Genio Anima da festa Romantica Superstar Ricco Socievole La farei Ehm Non lo so Se è socievole Forse è socievole No Ricca Ricca E la farei ricca E socievole No Solo uno La farei Ricco Ricca Di cosa vuoi parlare Sul tuo canale Sul tuo canale Di gaming Poi il mio nome Metterei Angelica Nome Angelica E Nome del canale Angelica Kawaii Come mi chiamo io Su youtube Mi chiamo Angelica Angelica Kawaii 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 Sono ricca Perfetto Vorrei essere ricca E parlerò sul mio canale YouTube Di gaming Di giochi Ok Però mi sto già trovando Molto bene In questo gioco È la prima volta Che ci gioco Quindi non è che Questo video qua Non durerà moltissimo Durerà 10 minuti Credo E farei solo La prima parte Cioè non è che Vabbè Vediamo se carica Perfetto Ah Per fortuna Raga Per fortuna È in italiano Perché Pensavo che fosse in inglese Ma in realtà È in italiano Meno male Se non capivo Assolutamente Niente Ho iniziato a fare video In questa stanza Mi ero appena trasferito Come a mamma Non avevo molti amici Lintorno Diamo un'occhiata Prima che Prima di diventarlo Youtuber Numero 1 Accetta Poi Ok Puoi usare le tue dite Per muovere la telecamera Del tuo personaggio Gira la telecamera Tranno due dita Sullo schermo E poi Muove il tuo carattere Premendo sullo schermo Con un dito Ah Ok Durante questi giorni Mi sono divertito A fare i video divertenti Di giochi Che avevo sulla mensola Ah Vai alla mensola Questa mensola Quale mensola Ah Questa credo La mensola Ah Quella C'è un gioco C'è questo Tocca il punto Interrogativo Tipo di video Solizione gameplay Poi tocca Quello Volevo premere Perché non me lo fa premere Vabbè Tocca il punto Interrogativo Punto interrogativo Quale punto Interrogativo Questo Non capisco Non capisco Al punto interrogativo Inizio il video Facciamo iniziare il video Però Ah In questa fase Configura La webcam Iniziamo il microfono Per il sito di video La tua postazione Di lavoro A un numero Limitato Di punti Ah Ok Quindi postazione 1 Bassa Risoluzione Ok Bassa Risoluzione Postazione Aggiorno Microphone Se ne sono I postazioni Più favori Per la tua Direzione Continua Ok Nascondi Senza filtro Senza Ok Continua Il nome del video Allora Lo chiamiamo Il Mio Primo Video Su Su Questo Questo Canale Canale Ok In questa fase Dove affrontare Diverse sfide Per salvare Scogliendo La carta Ogni carta Comento Cantando Questo Farei Poi Scena L'introduzione Da questo Ok Ok Ah qui devo Tascinare Le clip Proggio Gli effetti Va bene Questa E questa Procediamo Vediamo Questi sono i tuoi risultati Ok Assistazione Audio Post Production Ok Pubblica Video Punta Ah No Ecco Due Quindi ora Qui sta Deve pubblicare Il video Mi annoio Al tempo Ci permette Di caricare Il video Sul canale Ma ti dirò Che Le situazioni Iscriviti I soldi Ok Accetta Obiettivo Sbloccato Primo passo Per il successo Ho un testo Ogni mese Quindi devo studiare Se prendo Un bel voto Diciamo un premio Ma se fallisco La mamma Mi toglierà Il computer Accetta Per andare a scuola Devo solo uscire Dalla mia stanza Ah Sta uscendo No Non sta uscendo Ah Quindi adesso Devo andare Spettacolo Per andare a scuola Devo uscire Ah Devo adesso Ah Tipo adesso Devo andare Uscire Dalla stanza Dove è la porta Ah Studio Vai a scuola Ah però Mi sto trovando Bene Sapete Però non ho ancora Nessun iscritto Non ho ancora Nessun iscritto Eccola Sto rientrando Posso sempre controllare Se sono pronti Il test Controllare Il calendario Sul mio cellulare Ma andare a scuola E avere buoni voti Non è tutto A volte Vorrò fare acquisti Ok Ora Non devo lasciare A casa Non devo lasciare Casa Per fare acquisti In negozio Online Ah Usa il tuo pc Per gli acquisti Ok Prendiamo il pc Dai Ah lo premere così Ah ok Non devo premere Sullo schermo Sul pc Allora Ah ora Devo premere Per ora Ci sono tre negozi Aperti Andando avanti Sbloccherai Anche gli altri Posso visitare Uno dei miei negozi E uscire Cliccando la croce In alto a destra Ok Andiamo su Quel sito No Ok Cosa possiamo acquistare Io quanti soldi ho Ma Ah qua possiamo acquistare I giochi Per PC Il pc Credo Allora Questo qua Costa 30 euro Prendiamo questo Dai Acquistato Le mie console Acquistato Perfetto Perfetto Abbiamo acquistato Ho già Famiglizzato Ok Ora Cosa possiamo Fare Mi sono dati Giù i soldi Ah Mi è arrivato il pacco Mi è già arrivato Ok Apriamolo Ok Quindi Solo qui Scegliamo un altro gioco Così Almeno Così Posso voler Ma ce l'avevo già Ah no Questo è un altro Scegliamo il tipo di video Un altro Gameplay Iniziamo il video Postazione Uno Ok Terrei Questo qui Ora Intanto Fa un altro video Il gioco Si blocca Ah Stai aggistando Il gioco Si blocca Arrabbiata Perfetto Poi Tempo per iniziare Un gioco Ok Perfetto Ora devo fare Sempre L'editing Oh Process Ah Questa Salve il video Ah nuovo livello Livello 2 Ok Pubblichiamo il video Così Almeno raccoglie un po' Di fan No Raga Ah Quella di nostra madre Ah non lo sapevo Qui è Youtube Ah qui Sì Per bloccare Il gioco Credo Ah si Il gioco Per bloccare il gioco Allora Inizio di cambiare Abito Vabbè Non so neanche Come Mi vesto Come cazzo Mi vesto Mi vesto No Non lo voglio Ah qua posso Cambiare L'outfit Qui mi mettere Una collana Una collana Gli orecchini Ah ma gli orecchini Non ci sono Vabbè Accettiamo Leggiamo i commenti Se per noi Allora Allora Credo che dobbiamo Fare Facciamo altri video Al giorno Nuovo video Allora Questo Scegliamo il tipo Gameplay Tipo Allora Non c'è un giorno La postazione No Allora Potrei avere Allora Ripara 20.000 Questa Credo che potrei Aggiorno Ah gli acquisti PC world Acquistato Potrei Prendere Uh La videocamera Assolutamente La prendiamo Poi potrei Prendere Il Questo Però Non c'è mica Il microfono No Questo Prendiamo Questo Perfetto Desktop Ci vorrei Presto Ok Grazie Ora No Raga Se venite Sto da qualche giorno Ti tolirò il computer Non venire Più Anderò Va bene Allora No stavola Vuole che facciamo i compiti Mannaggia Ah Sto lavando tutti i pacchi Cioè Sono tutte le cose Intanto potrei Fare Un nuovo video Di Questo Cioè Farei un gameplay Questo qui qua mi sta piaccendo molto Sapete Questo Ok Perfetto Qui così Iniziamo a avere Più fan Dai Abbiamo pure Un Neanche Una Poi Questa Scena Ok L'editing Qui Perfetto Punteggio Tre Ok Pubblichiamo Il video Cioè Abbiamo il tutto In totale 11 views Visualizzazioni In pratica Mostra Risulta Studiamo Dai Nostro male Volemmo che studiamo Quindi Studiamo Dai Ah Questa Serve a casa Nostra Vediamo Ma posso dire che Un altro Un altro Molto Adoro Ah tanto è piaciuto Uh ragazzi abbiamo un iscritto Guardate Quattro iscritti Mi sono Ah è anche felice che mi hanno Giunto gli iscritti Guardate Quattro iscritti Io farei un nuovo video Sapete Farei Allora Non di questo Ma Di questo Mi sto Ragazzi mi sto divertendo Sapete Forse Facciamo Finiamo Questo video Qui Cioè Qui Adesso qui Perché ho tolto Qui adesso Facciamo Quest'ultimo video Qua E dopo Chiudiamo Il Il video Perché Sta durando Tanto Guardate ragazzi 14 iscritti Allora Gioco normale Pensone felice Dai 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 ragazzi Che ci arrivano Iscritti Dai Spero che Ora Facciamo Tempo Prima di iniziare Un gioco Ah non l'ha fatto fare Facciamo il processo Vediamo Punteggio Uno Così poco Siamo a 20 minuti 21 Oh ragazzi Guardate quanto stiamo Imitando di iscritti Veramente Beh ragazzi Non so se si può salvare Il gioco Come si salva il gioco Così che Esci Abbiamo 45 iscritti Qua Qui vediamo Molto brutto No Raga E' bene Di questa Tra buona tecnica Missione Felice Abbiamo giunto Anche 214 Views La console Ok Comunque Ragazzi Il video Si conclude The quiz Spero tanto Che vi sia piaciuto A me è piaciuto Tantissimo Iscrivetevi A tutti i miei Social Troverete I nomi Qua sotto In descrizione Se volete acquistare Le mie magliette Tazzo cover E felpe Trovate sempre I link In descrizione Io vi saluto Tvb a tutti Ci vediamo Al prossimo Prossimo episodio Di Youtubers Live Secondo episodio Ciao 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 Grazie.